Forse dopo la sorteggia nessuno pensava che avremmo battuto all'andata per 4-0 la Barcellona e poi 3-0 qui al Camp Nou. Ma secondo me la Barcellona rimane una squadra fantastica. Che comunque, va detto, ha avuto anche dei problemi, questo bisogna dirlo. Per esempio, se Messi non gioca non è proprio la stessa cosa. Nei 90 minuti di gioco abbiamo mostrato un alto livello di prestazione e voglio cogliere questa occasione per fare i complimenti alla mia squadra. Sin dall'inizio eravamo convinti di avere la finale in mano e i miei ragazzi sono stati al top della forma per tutta la stagione. Siamo stati molto uniti. L'atmosfera è meravigliosa e posso dire che disponiamo di una rosa che ci permette di correre su tre fronti, campionato, Coppa e Champions League. E non è questo un compito facile, ma la Bayern è riuscita a farlo per tutta la stagione. Lo scorso anno abbiamo perso fiato proprio all'ultimo momento. Non è molto facile, ma il FC Bayern è in sua storia gewohnta, ma l'ultimo anno abbiamo fatto, che dopo l'anno della stagione la stagione di spiegelare un po' un po' un po' un po' un po' un po' un po'. Grazie.